in avanti teso, il cosiddetto coro d'Angelo è la base di Luganis, è già molto in avanti ecco questo qui sicuramente usciranno ancora altri 9, 9 e mezzo questo è qualche tipice non vorrà sussarrirti con il 10 l'ha eseguito molto bene, meglio del cinese che aveva saltato prima di lui che aveva meritato dei 9 ecco rigustiamocelo questo volo d'Angelo molto alto ancora ecco qui, altri 2,10 ecco, a proposito dei 10 che portano a 147,18 se non si fosse chiamato Greg Lugani se avesse fatto lo stesso tuffo perfetto forse non ci sarebbero stati non ci sarebbero stati sicuramente 10 ma lui ha, diciamo, quel carisma che solo qualcuno ha e che fa uscire questi voti dicevamo, vediamo intanto italiani l'italiano è diventato l'italiano è diventato